Vendola tira dritto per la sua strada, ma l'impressione è che alla fine a qualcuno dei fedelissimi abbia chiesto un passo indietro. La notte porta consiglio si dice perciò bisogna solamente aspettare. Ho discusso prevalentemente di politica e terrò fede a quei punti particolarmente significativi di cambiamento, in particolare il punto a cui tengo di più, quello in una scena pubblica così dispoticamente occupata dal genere maschile, l'idea di un'aggiunta che assuma non a chiacchiere, non retoricamente il principio della parità di genere. Questo è uno di quei principi, insieme ad altri, su cui il Presidente Vendola non farà un passo indietro. Certo è che qualcosa nel già delicatissimo equilibrio tra il Governatore ed il maggiore partito della sua coalizione, il PD, sembra essersi nuovamente inceppato. Sergio Blasi, il segretario regionale, è solo all'incontro con Vendola. Era annunciato in compagnia del Presidente del partito, Michele Emiliano, che non si è visto. La questione degli esterni abbiamo detto che proprio in questo momento, con maggior ragione perché siamo in questa fase, utilizzare le competenze e anche il merito di tanti consiglieri è auspicabile, diciamo complessivamente, non soltanto per quanto riguarda il PD. Questa è solo l'ultima parte dell'intenso pomeriggio del Governatore, forse anche la più tesa. Decisamente distesi invece i toni degli incontri di cortesia con il candidato governatore di Alternativa Comunista, Michele Rizzi, e gli esponenti della coalizione di centro, Io Sud e Udc, Adriana Polibortone e Angelo Sanza. Si è parlato di progetti, di progetti soprattutto per il mezzogiorno, partendo naturalmente dalla Puglia e quando si parla di progetti e non si parla di spartizioni di nulla, io credo che si possano benissimo trovare delle forme di convergenza in termini di progettualità. I punti che riterremo convergenti con la storia, la cultura, la tradizione e i progetti dell'Udc per questa regione, li approveremo e sosteremo questa giunta. Niente potere, niente sottogoverno, nessuna trattativa fuori onda, trasparenza assoluta e la cortesia di esserci riconfermati nei ruoli reciproci.